Salve Fanni e benvenuti alla quinta puntata di Lightbringer e quest'oggi ce la vedremo con un livello molto difficile con dei mostri veramente molto molto fastidiosi e adesso lasciamo la parola anche al nostro amico Mr.Lol per dare delle piccole informazioni è che ormai ragazzi il gioco è diventato molto difficile è bastato ecco che forse sono quasi per morire no 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 sei morto si vabbè mi son sacrificato per un bene più alto ragazzi dove sei? riparto subito all'attacco no l'ho distrutto l'ho distrutto va bene ce ne mancano altri due oh cazzo scorpioni di merda che quel cazzo scappa mamma mia è troppo difficile incredibile sto facendo di tutto per non per non morire di nuovo si dai manca uno ne manca uno eccolo qua eh che palle sti cazzi poliponi si ci seguono in maniera oddio 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 il vermazzo bruttissimo no cattivissimo schifosissimo dai che superiamo anche il record se riusciamo si forse si che era olti 2 minuti e 35 mi pare quindi bella lì ha distrutto il record bella lì incredibile ragazzi per non uscire a fare un risultato sicuramente imprevedibile perché non me lo immaginavo di riuscirci sinceramente voglio essere proprio sincero è super record eh sì e intanto mi ha dato una mossa si chiama Elite Impact of Preachers 23.000 però non anche a me me l'ha data non mi fa impazzire sinceramente andiamo con l'altro livello numero 18 yes piattaforma 18 i comunisti più penso a sta battuta più moro dalle risate oh perché diventano corti e diventano più veloci è venuto di dire questi comunisti ops ciao salve fanni siamo tornati qui sulla diciottesima parte diciamo del gioco anche se non è il nostro diciottesima non è la pensi solo la diciottesima piattaforma ci sono oddio ma si sono messi tutti assieme qui c'è la ritrovata c'è la la festa nazionale di vermata non riesco a ecco ho recuperato vita non riuscivo a recuperare vita c'è la festa nazionale di vermi dai colpisci sto mostro ce l'ho fatto è rimasto uno piccolo piccolo che devo far fuori ho distrutto no non posso andarci vicino il leone scorpione ottimo ottimo quella è più rompipalle di tutti il resto finché sti piccolini no oddio mi stanno facendo un duro come grosso come che i piccoli sono diventati più potenti del solio e più rompi questi vermi i cabasisi mi fanno venire perché mi mangia la vevi dai beccali meteorite e dagli sto facendo strati dai 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 grande colpo grande colpo il primo vermo è quasi defunto morto che tutti li sto facendo fuori dai rimasto poco dai siamo all'impossibile troppi piccoletti a rompere i coglioni ragazzi ma che è successo oddio che botti esplosione ovunque sto dando il meglio di me oggi madonna che esplosioni quando ci sono quei cosi ringraziamo oggi solennemente il nostro amico per averci mandato il piripic ah da te è arrivato il piripic facebook lezzo perché più disattivo tutto e più mi mandano le cose grazie grazie ma chi è che manca? ah si vermicelli sono rimasti si sono sti schifosi vai sono rimasti 4 no no vai morti alleluia levate levate alle palle arrivi e c'è grazie è la seconda piattaforma fatta sì seconda diciotesima piattaforma della quinta nostra puntata risultato è vinto te appunti mi hai proprio stracciato il culo come si è ammazzato i farmicelli vedi sì neanche più mostri è bravo è bravo mister lord ho dato il meglio di me direi proprio di sì andiamo all'altra piattaforma eccoci qui cari fanni per la terza parte della puntata quindi l'altro livello che proveremo in questo momento il 19 molto molto difficile ragazzi e che qui sarà un delirio quindi cominciamo a attaccare tutti assieme perché ragazzi qua si fa dura ecco il caricatore di porto uh ma caricata a me animateli meglio mortacci sua ammazziamole cerchiamo di ammazzare prima tutti i mostri poi andiamo a fare sì conviene eccolo che è morto uno vai facciamo questo oh no inverno che schifo è un altro caricatore due caricatori troppi troppi caricatori no sto verme vai caricatore l'ho quasi ammazzato no no corri corri scappa dai ma non riesco a distruggerlo ah si è distrutto tenda a caricatooore caricatooore molto giapponese sembrava un samurai otto caricatore io sti vermi li odio ovviamente un like per me per fuccio sun oh sto verme lo odio è odiosissimo guarda sembra un che quelle schifezze tipo italia forbici non lo so è qualcosa di orribile no ma è il potere si ma fanno proprio schifo del genere di loro quindi che se ti avvicini ti devastano oh finalmente bravo tutto il cuccio grazie grazie vieni ammazziamo questo va è la forza della puccio saggine un altro verbo si eccolo oddio un caricatore soprannomi dati da me caricatore di porto eh si eh beh caricano sempre quindi caricatori io avrei detto caricatori di bestemmie perché cari fanni questi cosi sono veramente difficili e rompi palle da battere no no tento minchia eccolo ho distrutto la base ma sempre sempre più non capisco se siamo noi diventati cretini no 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 il gioco diventa sempre più impossibile da praticare per adesso sono che sono diventati più più forti ma più che forti è bastardi tenda a quello infatti vermazzi di cacca no ce ne sono due qui c'è poi il caricatore adesso si tutti i mostri che potevano mettere proprio gli insetti i ragni già li sopporto poco adesso anche i vermi proprio ci vado a pesca non ci peschi oddio queste cose sarebbe un buona schifezza mi voglio ricordare che dottor fuccio fa più danno di me si perché per adesso perlomeno come ho impostato il personaggio sembra di si forse pure anche derivato anche dall'arma che uso però io invece sono una ragazza quindi capito preferisce per invece essere carina e coccorosa piuttosto che menare le mani no no non è questo ok usiamo la mega mossa buon marone adesso che ho fatto quel mega mossa eh anch'io ho fatto il salto abbiamo ammazzati tutti insieme meno male hai fatto bene e dai ho usato tutte le skill che avevo bravissimo colpo da maestro ragazzi e abbiamo terminato anche questo di questa piattaforma la faccia di chi ci vuole male proprio eh quindi ragazzi questo episodio finisce qui con una vittoria incredibile a parte mia che ti ho stracciato il culo questa volta e sai come sono debole ti rifarai dai vai tranquillo e al prossimo episodio si quindi ragazzi come al solito sapete quello che dovete fare condividete scrivetevi alla pagina e a alla pagina di youtube e alla prossima puntata ciao fan ciao eccoci qui ragazzi ecco alla piattaforma no 18 ma non me lo ricordavo così eh infatti è molto oddio ah e questa qui dobbiamo ammazzare tutti i mostri si oddio il verme è devastante si se quante esplode soprattutto fate fate danni assurdi ragazzi ma quanti ce ne sono di vermi aiuto 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 ma no attenta no sei morto eh c'è cazzo di leone di merda che eccomi di nuovo che 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 ma confuse sono arrivate ste cazzo di vermi a posto il primo verme e ha morto oi 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 ho ammazzato il li oi o leone scorpione che roba era no oddio ho rischiato proprio quel verme ho rischiato si ma troppi vermi ci sono ma io io mi chiedo perché troppi schifosi ma perché quando gioco la gente deve commentare siamo veramente e probabilmente siamo richiesti i nostri fanni non ci lasciano mai in santa pace ovviamente scherzo sono rimasti tre adesso sono rimasti permetti diciamo molto rimpiccoliti sono bastardi che esplodono sì quando perdono pezzi esplodono sì i più piccoli diventano e più comunisti sono comunisti perché che c'entra la politica non lo so così mi è uscito vabbè e in caso sono neri sono fascisti ma sono morti per parità politica sai com'è se no uno dice ma che stai facendo politica no 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 fascisti democristiani tutto qua abbiamo fatto record i comunisti meno male non stiamo in campagna elettorale